Ben ritrovati dalla redazione, sottoscritto al Mimit l'accordo di programma per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra a Trieste con l'insediamento del gruppo MSC che realizzerà vagoni ferroviari per il trasporto merci. In attesa dell'applicazione dell'allegato ottavo del Trattato di Pace del 1947 che prevede il punto franco internazionale che MSC vuole, entusiasta il governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federiga. La firma di questo accordo di programma scongiura una delle peggiori crisi occupazionali che la regione ha dovuto affrontare e conferma la strategicità del Friuli Venezia Giulia nel contesto produttivo italiano ed europeo, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo e crescita economica. La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores assieme all'Eli Soccorso Regionale a seguito di una richiesta di aiuto proveniente dalla costa dei barbari. Qui un uomo anziano è caduto per circa tre metri mentre percorreva un sentiero orizzontale quasi fino a livello del mare. A chiamare i soccorsi sono stati altri bagnanti. L'intervento è stato risolto dall'Eli Soccorso Regionale con medico e infermiere con una equip che è stata coadiuvata da quattro soccorritori scesi a piedi via terra. Non sono altri dati nelle condizioni sanitarie della persona caduta. L'intervento è avvenuto ieri nel primo pomeriggio. Approvando quella che molti esponenti della Giunta definiscono come la delibera delle delibere, il Comune di Trieste mette a segno un punto decisivo nella riqualificazione dell'ex porto asburgico incastonato nel cuore della città. La trasformazione da Portovecchio Porto Vivo al momento resta sulla carta ma intanto l'amministrazione di piazza si assicura un investimento tra pubblico e privato di qualcosa come 600 milioni di euro. Un passaggio storico per tutta la città in attesa poi di assistere a quello formale nell'aula del Consiglio Comunale in programma nel mese di settembre. Niente più zone grigie per i pazienti che chiedono di prenotare una prestazione sanitaria all'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina. Al termine di un procedimento avviato dal Procuratore di Trieste facente funzioni Federico Frezza è stato accertato che le liste chiuse per visite o esami non esistono più. L'iniziativa della magistratura era stata avviata, come spiega una nota della Procura, sulla base di una denuncia. Nonostante un'impegnativa fosse ormai scaduta, un paziente che aveva provato a prenotare la visita specialistica non era stata indicata alcuna data, nemmeno remota. Non si trattava di un caso isolato, bensì il tutto di prassi diffuse frequenti oggettivamente atte a non far emergere ritardi nell'erogazione delle prestazioni o a non far attivare la cosiddetta garanzia, vale a dire la possibilità del ricorso a visite private con rimborso da parte di Asugi. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche, oggi cielo sereno poco nuvoloso, sulla costa bora moderata al mattino, brezza dal pomeriggio, temperature minime in pianura fra 18 e 21, le massime fra 31 e 34 gradi, sulla costa minima fra 22 e 25, le massime fra 29 e 33 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.